Una poltrona per due e mezzo. E non è il titolo di un film ma del progetto messo in campo dal Comune per avvicinare i giovani al teatro. A Venezia i giovani residenti in tutta la città metropolitana, quindi in tutta l'ex provincia di Venezia, ora città metropolitana, possono andare a teatro con soli 2,50 euro in tutta la stagione di prosa e di danza del Teatro Toniolo. Una scelta dell'amministrazione che va incontro ai giovani con lo scopo di avvicinare i giovani al teatro. Col costo di uno spritz, anzi meno, un giovane può oggi beneficiare del cartellone del Toniolo che è uno dei più ricchi e più belli di tutto quanto il territorio veneto. Una programmazione di tutto rispetto che ha già visto esaurire gli abbonamenti stagionali. I ragazzi che vogliono usufruire di questa promozione possono entrare nel sito www.arteven.it oppure... Basta che il giovane si lechi anche 30 minuti prima dello spettacolo con la tessera che si possono fare la biglietteria del Toniolo o via internet e sotto i 26 anni possono acquistare il biglietto sotto i 2,50 euro. Un'idea che nasce per valorizzare i più giovani e la loro crescita personale e intellettuale. L'amministrazione sta fortemente investendo nei servizi per i giovani, per gli adolescenti e per i ragazzi nel territorio. Penso alla Sala Prove, penso a Villa Erizzo, penso alla Vez Junior, alla Bettini Junior. Quindi è un impegno costante e continuo di persone che si dedicano alle nuove generazioni.